Salve a tutti amici di TechDifferent, questo è un prova di registrazione video in qualità 1080p con il Samsung Galaxy S4 Stiamo vedendo come registra i video con la nuova applicazione fotocamera di Google rilasciata nella giornata di ieri Andiamo a vedere come si comporta Prima di tutto partiamo da una macro Avviciniamoci e vediamo come se anche la messa a fuoco sia molto lenta la qualità è molto buona Passiamo ora ad un soggetto lontano e vediamo la velocità di messa a fuoco Mi sembra abbastanza buona Ora vediamo un contro luce E anche in questo caso mi sembra che l'adattamento alla luminosità sia molto rapido Come avete visto il passaggio da luminosità elevate a luminosità minori è stato abbastanza veloce Ora proviamo a fare uno zoom E anche ora la qualità è molto buona Direi che per il momento è tutto Continuate a seguirci su techdifferent.it Grazie per l'attenzione e a presto da Alessandro Brunello Ciao